Il percorso si dimezza, i numeri della Placenzia Half Marathon for Unicef rimangono ugualmente impressionanti. Quasi mille uomini tra volontari di protezione civile, addetti al soccorso e alla viabilità, oltre agli agenti delle varie forze armate chiamate domani ad un super lavoro, e ancora 10.000 spugne idratanti, 15.000 bicchieri per 6.000 litri d'acqua, oltre a 4 quintali di frutta e 500 chili di pasta. Basta questo per far capire quale sia l'entità dell'evento la cui macchina organizzativa è scattata quest'oggi con la consegna dei pettorali e la partenza della camminata per l'Unicef, che ha fatto registrare oltre 500 iscritti. Com'è andata? Bene, è andata bene. Più che altro avevamo le biciclette dei bambini, con le rotelline, quindi mi ha fatto un po' fatica. Si sono divertiti, quindi per noi è stata una bella giornata. Giusto riscaldamento per la maratona di domani? Verrei proprio di no. È stata poi la volta della presentazione dei top runner che domani, dalle 10, sfideranno il cronometro nell'evento clou delle manifestazioni. Tra i piacentini, grandi favoriti sono Gisella Locardi tra le donne e Claudio Tanzi tra gli uomini. Ci godiamo la risposta al solito di tutti i volontari. Ci sono tutti, tutti. Tutti quelli che c'erano l'anno scorso ci sono, perciò sarà un'assistenza doppia. È il quinto anno che Armonia partecipa alla Piacenza Marathon per testimoniare l'importanza della prevenzione e sensibilizzare le donne alla prevenzione, perché prevenire è meglio che curare. Andrei, corsari della maratona sempre presenti. Anche quest'anno è il tempo di esaudire desiderio. Anche quest'anno esaudiremo un desiderio di un bambino malato di tumore. Quest'anno abbiamo Alice, malata di lucemia. Per lei ci sarà una bella bicicletta Salta Force, una di quelle biciclette degli anni 70 che usavamo noi da bambino. Lei la vuole e siamo molto contenti di regalargliela oggi. Per consentire il corretto svolgimento della Placenza Half Marathon saranno adottate, come di consueto, le necessarie limitazioni al traffico che trovate sul nostro sito internet www.liberta.it che domani sarà aggiornato in tempo reale con l'andamento degli atleti in gara. Grande sforzo mette in campo anche Tele Libertà con la lunga diretta che dalle 10 seguirà tutta quanta la giornata di gare con interviste dal percorso, immagini e soprattutto le emozioni della Placenza Half Marathon.